L'equip multiprofessionale dei medici, degli infermieri, degli OSS dell'aslo di Teramo insieme ai volontari e a Soroptimist International lanciano una sfida per promuovere il benessere dei 32 ospiti della casa di riposo di psicogeriatria in Contrada Casalena, dove risiedono ancora 17 persone provenienti dall'ex ospedale psichiatrico Sant'Antonio Abate di Teramo, chiuso nel 1998. Il progetto si chiama Happy Mind e si fonda sull'arte terapia per potenziare e conservare le singole abilità di questi pazienti attraverso laboratori artistici. Il progetto Happy Mind sta ad indicare quello che può essere un percorso, un'iniziativa da parte degli operatori sociosanitari, dei professionisti di cura all'interno di questa ASL in collaborazione con Soroptimist International Club di Teramo, di poter affiancare, di poter accogliere con una modalità innovativa quello che è il percorso di cura e di assistenza all'interno dell'RSA psicogeriatrica di Casalena, dove abbiamo ricoverato 32 persone, di cui 17 provenienti anche dall'ex realtà manicomiale. Sono persone che hanno vissuto un periodo importante della loro vita all'interno di questa struttura manicomiale e che hanno anche avuto delle fasi di abbandono, se vogliamo, soltanto familiare, ma anche affettivo e quindi anche di abbandono effettivo, che noi vorremmo oggi recuperare attraverso un percorso di relazione di cura legato anche all'arteterapia, alla musicoterapia, legato all'ortoterapia, quindi vorremmo riempire di contenuti anche le giornate che passano gli ospiti all'interno della nostra RSA e con una possibilità, un progetto di reinserimento, di recupero, di mantenimento di quelle che sono le loro abilità, le loro condizioni anche cognitive e la possibilità quindi di poter aggiungere e apportare benessere a quello che è il quotidiano, il vissuto di queste persone. Questo in estrema sintesi, ma le professioni di aiuto, quindi in particolar modo la professione infermeristica, la professione medica, ma anche tutte le altre professioni hanno oggi un impegno e un dovere etico di poter dare delle risposte all'interno di quello che deve essere il percorso di umanizzazione delle cure, nel rispetto dei tempi, nel rispetto anche delle capacità cognitive che possono avere queste persone. Il pittore Rimatis diceva, l'arte non conosce né confini né popoli, conosce solo l'umanità. Grazie